buongiorno a tutti sono francesca pizzato e sono una consulente di infocamere oggi vedremo come richiedere un nuovo token digital dna essendo già in possesso di un dispositivo di firma digitale cns del sistema camerale che mi sta per scadere e lo devo sostituire il portale è lo stesso per tutte le camere di commercio ed è il seguente in ogni sito della vostra camera di commercio di riferimento che ha questo servizio verrete rimandati a questo indirizzo alla fine della pagina clicchiamo qui abbiamo già inserito il nostro token o la nostra smart card e clicchiamo procedi ci legge il nostro codice fiscale ci chiede il codice pin eccoci qua ha ribaltato in automatico i dati personali e adesso dobbiamo dire che tipo di richiedente siamo o privato cittadino o legale rappresentante io sono un privato cittadino fossi stato un legale rappresentante mi avrebbe chiesto la la codice fiscale partita iva e la provincia in cui ho la sede legale torniamo privato cittadino la la mia residenza il tipo di documento il mio indirizzo mail e il mio numero di telefono poi devo inventarmi una pass frase la pass frase ci servirà per aprire il pdf che ci arriverà tramite email e conterrà il pin e il book del nostro dispositivo avanti possiamo andare a scegliere la nostra camera di commercio di competenza io risiedo in provincia di pordenone per cui mi viene proposta la camera di pordenone udine fossi stata residente in provincia di venezia mi avrebbe proposto la la camera di commercio di venezia rovigo se fossi stato un legale rappresentante e avessi inserito la sede legale della mia azienda mi avrebbe proposto la camera di commercio in riferimento alla mia sede legale d'accordo il tipo di dispositivo ovviamente un token e seleziono il tipo di consegna la camera di commercio di riferimento per me consegna assolutamente andando di persona in camera di commercio o mandando una terza persona anche mentre ci sono anche altre camere che hanno la consegna tramite corriere o tramite posta fleggo tutti e tre i quadratini e clicco avanti mi chiede di scaricare i due documenti li scarico tutti e due adesso li vado a firmare e poi a reinserire eccoli qui allora firmiamo il modulo firma p7m mi raccomando ok e firmiamo anche le clausole sempre firma p7m firma perfetto ritorniamo scegliamo il modulo quello firmato upload scegliamo adesso le clausole firmate upload perfetto avanti mi fa un riepilogo e mi dice che il tipo di pagamento il metodo di pagamento sarà pago piano verificarlo perfetto procede al pagamento mi dice che nel mio carrello ovviamente c'è solo il token dna 70 euro perfetto inserisco di nuovo la mia mail riconfermiamo la mail l'indirizzo l'indirizzo prosegui l'intestatario appunto sono io e faccio prosegui ok e adesso mi si apre il portale per il pagamento pago pia mi fa sempre un riepilogo mi chiede il codice fiscale mi chiede l'indirizzo mail ok poi qui il mio indirizzo e pago online con carta di credito o bonifico posso o con paypal posso entrare con lo speed oppure entro con la mia mail magari non possiedo speed entro con la tua mail e scriviamo il nostro indirizzo continua mi fa accettare la la policy sulla privacy e continua e mi chiede come vuoi pagare con carta di credito, conto corrente e altri metodi qui lascio a voi la scelta e vi saluto e buona giornata arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti